Ciao a tutti, non fare la donna di terza mano. Prima di affrontare questo tema per iscriverti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo l'appuntamento di venerdì 24 gennaio 2020 a Torino con il mio seminario dal titolo Se soffri non è amore e come conquistare la persona giusta, è riferimento 333 15 11 703 e veniamo al tema non fare la donna di terza mano. Chi è la donna di terza mano? La donna di terza mano è una donna che non riesce ad ottenere nulla nella sua vita fondamentalmente è una donna che si accontenta delle briciole, ma tu non sei una formica quindi non deve accontentarti delle briciole e perché si accontenta delle briciole? Beh per un motivo molto semplice, perché non ha teme di non trovare nessun altro teme l'abbandonita e la solitudine, teme di non poter essere felice senza la persona che ti rende felice questo è il paradosso e allora accetti di tutto, accetti ad esempio di fare l'amante accetti di fare l'amante volendo una relazione stabile accetti di prenderti le briciole quando in realtà vorresti diciamo il piatto completo questo nasce anche dalla disistima, quindi è molto importante renderti conto che bisogna fortificare la disistima io come fortificare, cioè fortificare l'autostima, eliminare la disistima bisogna fortificare l'autostima il che vuol dire eliminare i tre pensieri della disistima i tre pensieri della disistima che vanno disinnescati sono il pensiero di incapacità il pensiero di sfortuna diciamo così, il pensiero di non essere in grado di superare l'impedimento e questi pensieri quando si manifestano diventano veramente nefasti e condizionano gravemente la nostra vita per cui soprattutto la vita delle donne che diciamo non sono più giovanissime dal loro punto di vista e quindi credono di poter perdere l'ultimo treno dei treni ne passeranno tanti ancora in qualunque situazione e comunque valorizzando la tua autostima passeranno dei treni migliori passeranno dei treni che meriteranno delle tue attenzioni però se non elimini le situazioni negative, se non elimini le persone negative non potranno mai entrare nella tua vita le persone giuste, le persone buone, quelle buone e giuste per te bene, per questo video è tutto mi raccomando, ti aspetto a Torino venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.45 con il mio seminario Se soffri o non è amore, come conquistare la persona giusta e il riferimento è il 333 15 11 703 ciao a tutti